no ma non aveva nel senso cioè allora ragazzi era una persona che si trattava male e ha fatto una fine di merda e che cazzo e poi la gente sta a dispiacersi e se qualcuno dice le cose come stanno e dice la realtà dei fatti vi prendete pure male cioè anche no ma cos'è quella roba lì ha avuto un infarto e secondo te perché ha avuto un infarto dimmi secondo te ha avuto un infarto perché stava bene o perché aveva uno strato così di grasso intorno al cuore dimmi secondo te perché per quale cazzo di motivo ha avuto un infarto dimmi perché se io mi se io adesso quando arrivo a casa mi lancio dal balcone mi spezzo tutti e due i femori in dieci in dieci punti diversi non avrò comunque un infarto perché no più che altro c'è i femori che ti ha sfondato che ti hanno sfondato tutto c'ho i femori in briciole che mi escono dal culo però non mi viene neanche un infarto cioè ragazzi di cosa stiamo parlando era una food challenge continua cioè è inutile fare i finti per benisti del cazzo i moralisti di sta grandissima fungia di minchia ok diciamo le cose come stanno eh se ti riempi di merda tutti i giorni alla fine esplodi punto punto tennens slalomo fa sentimento sentono in colpa la fanno iper benissima in colpa perché cosa mi cagliano detto loro di mangiarsi 40 kg e fettallate sono medico youtuber sovrappeso ma grazie al cazzo forse forse guarda l'unica persona al mondo che poteva salvare la vita quella persona lì era dottor nosaradan e basta solo lui e se non sapete chi è il dottor nosaradan quello di vita al limite porca puttana